Grazie a tutti voi, per aver realizzato questa manifestazione è stata enorme, poi è capitato che la sette campioni coincisa quel giorno del mio compleanno, quindi quel giorno nonostante il timore di problematiche potesse sorgere durante la manifestazione, si è tutto sciolto alla fine con la partecipazione della gente, di tutti i club, per me è stata una grandissima emozione. Grazie a tutti voi. Grazie.